A Monta di Livenza c'è una comunità, quella di Malentrada, che saluta il suo parroco. Malentrada di Monta di Livenza, siamo con Aldo Morettin, presidente dell'Associazione Ricreativa per Malentrada. Ecco, oggi avete dato un saluto a Dorino Bruseghin, che lascerà la comunità mottense. E lo stesso Dorino ha benedetto questo terreno, che sorgerà a che cosa? Ecco, su questo terreno sorgerà finalmente la nuova struttura che porterà a Malentrada un luogo in tutta sicurezza per i nostri festeggiamenti. Fino a poco tempo fa la Sagra poteva nascere così, all'ultimo, messa su strutture fatiscenti o anche magari non del tutto sicure, ma le nuove normative europee ci portano a dire e a fare momenti e passi che possono far sì che anche la nostra comunità si adegui a quelle che sono le esigenze di questi tempi.